La dichiarazione di nullità di ben 47 matrimoni celebrati negli ultimi anni dal sedicente sacerdote Ti arriva a casa un bustone giallo e scopri che tua moglie non è più tua moglie La curia quindi ha previsto un evento collettivo in cui celebrare nuovamente tutti i matrimoni Guarda che non sono mica più tuo marito Davvero ci lasci così nella merda? Amore pensavo che bisogna abbiamo noi di risposarci E quando siamo tutti e quattro insieme stiamo benissimo Sono innamorato di un'altra donna Quando passa così tanto tempo ti sembra così che non sia più possibile stare bene anche soltanto per qualche ora La prima volta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti